Salve a tutti ragazzi, qui sono in compagnia di un mio amico. Salve, cos'è il mio dito? Si, non incomincio a fare il collone, per favore. Ah, perfetto. Oggi faremo una gara, viaggio d'affari, stanno andando un tipo. E vi prenderà naturalmente, come al solito. Ma stai detto. Stai entrando un tipo. Vediamo il tipo. Non riesco a leggere, vedete voi. Dammi. Ok, si parte, se no questo baccalà se ne va. Ok, si inizia. Si inizia, perfetto. Allora, questo qui si può dire che è il primo video, stai fermo. Mi hai fatto trovare 300. Si, ma non li abbiamo caricati, vabbè. Questa bacchia devi usare. No, la cabrio no. La berlin, voglio trovare. La ferrari. La grotte. Comet, fu questo. Fogitena, cacate, l'ho già provata prima. E ha perso di brutto. La jester. Jester da gara, via. Rosa. Hai fatto il pranzo, scusate. Ma ci stai parlo. Quello che non hai trovato. La jester da gara, ragazzi. Allora, quello l'ho. 3, 2, sconti di 4. Ma quanti minuti abbiamo a disposizione, l'ha? Boh, un quarto d'ora di più. Ce la facciamo affare in una garetta? Sì, speech, sì. Speech, tipo la spiaggia, don't use speech. 300 sconfitte. Allora, siccome... Eh, no, non si può. Volevo, sai, scommettere qualche migliaio di dollari addosso a lui. Giusto per far soldi facile. Mamma mia, la mia jester da gara. Tanto perdi, quindi. Che costi d'assi. Ha già un bel rumore, ragazzi. Aspetta, quella là è la cucchietta, però dà il tempo di prendere velocità a queste, su cazzi sulle. Scusatemi per il termine. Madò, stai prendendo un po' di velocità? Aspetta. Poi li prendo la scia, se riesco. A sto ballota. Scia? Amico, è stato un piacere conoscerti. Vai. Mamma mia, zonbubi. Andai addosso. Stai andando addosso, non lo sfascio per te la gianca. Ehi, ehi. Ma è speppina, dottor me? Mi stai andando di brutto. Tu ti fudo. Vai, sì. Oh, che potecchiezzo. Ho colpato, voglio. Va bene. Vabbè, tanto ci dobbiamo allenare ancora un po'. La prossima gara che faremo, Visto che lui si gasa, lo farò guidare a lui. Vedremo un po' la sua potenza che si prende. Sì, poi vediamo che contro lui arrivano 200 e più tanti. E lui si dopo distruggono. Sono 24 ore su 24. Come stai sbagliando. Va bene, abbiamo capito che questa macchina non è buona. Forse era meglio la berlena. Perché hai messo in pausa? Non l'ho messo in pausa. Va bene, vai, vai. Non ti va a guidare. Cazzo hai fatto? Faccio foto intanto. Ah, ma perché stai distruggendo? Ma si vede bene. No, io sto guardando la telecamera. C'è, il telecampo dice. Allora, sto guardando l'iPhone 100. Dove? Beh, io giro la telecamera, sicuramente. Con lo spazio no. Con lo spazio, c'ha due migliori di spazio. Vabbè, sta gara l'abbiamo persa. Possiamo dire che ci possiamo andare a ritirare in un bidone. Eh, gioco. Tidiamo qua il video perché non si può vedere. No, no, no. Guarda, guarda! Perché fai foto? Ho veduto l'aggio stupendo. Aspetta, mi muoio un poco, vai. Stai fermo! Stai qui, tocca. Ma guarda! Dai, se non ci stai fermo, ti elimino... Dai, che cosa? Degli amici di QSL? Sì, perché non ti tengo nemmeno. No, perché c'è l'intore che proprio... Vabbè, comunque, mi chiamo Veda, 8302, seguitemi... Alla PlayStation 4, faremo qualche video. Ah, no. Su Ghost, quella robaccia alla... Sì, c'è anche la Terra di Mezzo, l'Ombra di Mordo. Ah, vi faremo vedere anche un gioco spettacolare. Che un giorno stavo andando alla casa e l'ho visto che stava giocando. Com'è che si chiama quello là? Non lo so, lo scavatore, tutte queste cose qua. Ah, è lo scavatore che fa cagare, che è pinto in un giorno. Ah, comunque, un altro. Badamino, badgenamino, come cazzo che è, ma che non si legge. Noi stiamo a fare dei video, quindi... Creco. Muori perché stiamo a perdere. Ed è qui, l'altra volta, mi è rimpigliato. Perché scusami così? No, penso che l'altra cosa. Hei! Bye-bye!